Quando posso cominciare a dare il latte vaccino al mio bambino? Ciao, sono Andrea di autosvezzamento.it e in questo breve video vorrei, una volta per tutte, sfatare alcuni miti e dare delle informazioni precise per quanto riguarda l'introduzione del latte vaccino nella dieta del bambino. Per prima cosa però mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale di autosvezzamento.it e premete sulla campanella per assicurarvi di ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Prima di rispondere alla domanda quando è possibile introdurre il latte vaccino nella dieta del bambino, bisogna distinguere due casi distinti. Primo caso. Quando vogliamo utilizzare il latte vaccino come sostituto del materno o del formulato, è opportuno aspettare i 12 mesi di vita del bambino. Questo è un punto su cui tutti più o meno sono d'accordo, l'unica incertezza al massimo è su quei 12 mesi, in quanto ci possono essere delle piccole variazioni, ma verso il basso, non verso l'alto. Non vi voglio annoiare con tecnicismi e definizioni, se vi interessa approfondire l'argomento in descrizione trovate il link a un articolo del sito dove elenco e riassumo una serie di enti nazionali e internazionali e le loro raccomandazioni. Vedrete che nonostante ci siano delle piccole differenze, tutti dicono più o meno la stessa cosa. La situazione è certamente complicata dal fatto che ci sono i latti formulati di tipo 3 o di crescita e dal fatto che i genitori vengono bombardati da messaggi pubblicitari che ne cantano le lodi. Senza diloggarmi sull'argomento, basti dire che questi latti formulati, al momento, non sono regolamentati e non ci sono evidenze scientifiche indipendenti della loro utilità. Difatti nessuno al di là dei produttori e forse di qualche pediatra ne raccomanda l'utilizzo. Al massimo si dovrebbe cercare di limitare le quantità di latte vaccino che un bambino prende, ma di questo ho già parlato in un altro video e al quale vi rimando, lo trovate linkato in alto, cliccate subito per metterlo in coda prima che vi scordate e guardatelo dopo di questo. I motivi per i quali si sconsiglia di sostituire troppo presto il latte materno o formulato con il vaccino sono fondamentalmente tre. 1. Per prevenire la carenza di ferro, in quanto il latte vaccino ne è povero e quel poco che c'è è scarsamente assorbibile, quindi c'è un rischio di anemia. 2. Il latte vaccino è molto proteico, quindi assumerne grandi quantità può limitare l'assunzione di altri cibi. 3. Il latte vaccino assunto in grandi quantità prima dei 9 mesi è possibile che generi delle micro perte di sangue nell'intestino dei bambini. A chi dici che da piccoli allora hanno dato il latte vaccino dai 3 mesi e ora sono in forma invidiabile rispondo che un sacco di gente fuma fino a 90 anni e più, ma questo non è certo un motivo valido per fumare tutta la vita. 2. Se si parla di utilizzare il latte vaccino all'interno di una preparazione culinaria qualunque, allora non ci sono problemi, si può fare da subito. Il latte vaccino in questo senso è un alimento complementare come un altro e non ci sono problemi di sorta. Se ad esempio capitasse che la prima cosa che assaggia il bambino fosse un po' di purè nel quale avete messo del burro e del latte, oppure una lasagna dove c'è la besciamella, non ci sono problemi. 3. Quando il bambino inizia con l'alimentazione complementare, se capita che tra gli ingredienti si è compreso anche il latte vaccino, va benissimo. Su questo punto credo che siano tutti d'accordo, di fatti non sono a conoscenza di nessuno di serio che lo sconsigli. Chiaramente ci sono quelli che sono contro il latte vaccino per principio, in primis vegani e la banda del no latte, per i quali non ha importanza se viene introdotto a 6 mesi o a 60 anni, ma questo è tutto un altro discorso ed esula dallo scopo di questo video. L'elemento di confusione maggiore nasce dal fatto che in tanti pensano che si debba ritardare qualunque introduzione del latte vaccino a dopo i 12 mesi, ma non è così. Un conto è sostituire il latte materno formulato con il vaccino, un altro è utilizzarlo come alimento complementare. Aggiungo solamente quanto dice l'OMS su questo argomento. Si sconsiglia l'introduzione del latte vaccino non modificato come bevanda prima dei 9 mesi, ma può essere utilizzato in piccole quantità nella preparazione dei cibi complementari dai 6 ai 9 mesi di età. Dai 9 ai 12 mesi il latte vaccino può essere introdotto gradualmente nella dia del bambino come bevanda, tuttavia sarebbe preferibile continuare con il latte formulato fino ai 12 mesi. In conclusione alcune precisazioni. È sempre opportuno utilizzare il latte intero e non parzialmente scremato o scremato, perché la parte che ci interessa è la parte grassa, in quanto di norma i bambini devono mangiare più grassi degli adulti. Se invece utilizziamo il latte ad esempio scremato con l'idea che sia più leggero, per cui preferibile a quello intero, abbiamo che il bambino ingerisce una quantità di grassi pari quasi a zero, mentre le proteine, che se vogliamo sono la parte che vogliamo limitare, sono rimaste invariate. Quindi optiamo sempre per latte e latticini interi. Spesso mi chiedono se sia opportuno iniziare diluendo il latte vaccino quando viene introdotto al posto del materno o formulato. Questa è una di quelle cose che vengono tramandate da genitore in genitore, ma non credo che abbia alcun fondamento. A mio avviso avrebbe più senso cominciare alternando latte vaccino al latte formulato o materno, aumentando mano a mano le dosi di vaccino. Non è che diluire il latte vaccino faccia danni, ma non sentitevi in obbligo di farlo e non pubblicizzare l'uso. Una domanda legittima è come fare a capire se sto usando il latte come ingrediente o come sostituto del materno o formulato, in quanto delle volte possiamo essere in dubbio. Il test più semplice è chiedersi, il latte vaccino glielo do con il biberon? Se si allora è sicuramente un sostituto del latte materno formulato, se no con tutta probabilità è un cibo complementare. Quindi se il bambino mangia del purè o un po' di lasagna, se beve del latte da una tazzina mentre facciamo colazione o se mangia del riso cotto con il latte, direi che tutto rientra nel latte vaccino utilizzato come alimento complementare, che come tutti gli altri ingredienti utilizzeremo con parsimonia e alternandolo ad altre 100 cose. E a te cosa hanno consigliato? Utilizzi il latte vaccino nella dieta di tuo figlio? Hai fatto assaggiare i cibi con il latte vaccino prima che tua figlia compisse 12 mesi? Raccontaci nei commenti che informazioni ti sono state date. Ciao, commenta e alla prossima! Grazie! 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 Grazie!